Questa unità didattica è dedicata all'implementazione in prologue della ricerca in ampiezza. Come sappiamo, la ricerca in ampiezza si differenzia dalla ricerca in profondità per il modo in cui i nodi espansi, i figli dei nodi espansi, vengono aggiunti alla lista dei nodi frontiera. Nella ricerca in ampiezza vengono aggiunti in coda, mentre nella ricerca in profondità vengono aggiunti in testa. La implementazione che proponiamo utilizza adesso un modo diverso per rappresentare i nodi sulla frontiera. Non rappresenta tanto i nodi sulla frontiera, solo i nodi sulla frontiera, ma rappresenta in realtà per ogni nodo sulla frontiera il percorso dal nodo stesso fino al nodo radice. Quindi dobbiamo parlare, più che lista dei nodi frontiera, lista dei percorsi frontiera. Per esempio, nel caso dell'albero parzialmente espanso, in figura, in corrispondenza della lista dei nodi frontiera DEFG, noi utilizzeremo nel nostro programma la lista dei percorsi frontiera di BA, EBA, FCA e GCA, apparentemente ridondando l'informazione, quindi occupando più rame, in quanto che i percorsi parziali BA viene ripetuto due volte, CA viene ripetuto due volte, il percorso parziale A addirittura viene ripetuto quattro volte. Ma come vedremo, questo in realtà per il prologue non è un problema. Quindi l'implementazione della ricerca in ampiezza verrà effettuata in questa maniera. Invece che rimuovere il nodo D dalla lista dei nodi frontiera, rimuoveremo tutto il percorso DBA dalla lista dei percorsi frontiera. In corrispondenza di questo percorso appena eliminato, andremo a generare le sue successive espansioni, semplicemente andando a vedere quali sono i nodi successori di D, e per ognuno di essi generando il relativo percorso frontiera. Dopodiché andremo ad aggiungere questi nuovi percorsi frontiera alla lista dei percorsi frontiera in coda. Cioè in pratica quello che andiamo a implementare è un predicato BFS, per Bradford Search, con due argomenti. Il primo argomento è la lista dei percorsi frontiera, e il secondo argomento sarà la soluzione, cioè il percorso inverso, perché questi percorsi frontiera sono percorsi inversi rispetto all'ordine in cui dovrebbero essere restituiti i percorsi, che verrà restituito appunto come soluzione. Già dalla clausola tappo della definizione del predicato ricorsivo BFS, vediamo che il nodo che verrà restituito sarà il percorso che verrà restituito, inverso, questo sarà il primo percorso frontiera nel caso in cui il primo nodo del primo percorso nella lista dei percorsi frontiera è il nodo destinazione, cioè il goal. Questo vuol dire che il nodo D che stavamo per espandere è esso stesso già il goal. Nel caso in cui questo non accade abbiamo la chiamata ricorsiva e in pratica quello che si va a fare è si va a prendere il primo percorso, quello che dobbiamo eliminare dalla lista dei percorsi frontiera, lo espandiamo, come vedremo nel secondo predicato, generando quindi a questo punto la lista dei percorsi estesi, estendendo, cioè espandendo il percorso in questione. Questa lista dei percorsi estesi, mediante l'appendola, andiamo a mettere in coda la lista dei percorsi, la quale altro non è che la coda della lista dei percorsi frontiera che avevamo all'inizio della chiamata, al lato della nuova lista dei percorsi frontiera, su cui poi dopo ricorreremo. La espansione del percorso eliminato, cioè del primo percorso nella lista dei percorsi frontiera, viene fatta semplicemente in questa maniera, lanciando un find all, sul goal congiunto, cerca un successore NN del nodo N, che sarebbe il primo nodo nel percorso che stiamo eliminando, e per ogni successore, vai a vedere che il successore non faccia già parte del percorso che stiamo eliminando, per evitare i cicli. Nel caso che il successore abbia superato anche questo controllo, andiamo ad aggiungerlo in testa al percorso che stiamo eliminando, e questa lista la raccogliamo nella lista di liste percorsi. Quindi percorsi, altro che non è, che la lista delle liste di nodi, ciascuna delle quali è rappresentante il percorso inverso da A fino a uno dei figli di D, cioè del nodo che dobbiamo eliminare dalla frontiera. Questa quindi interrà la lista dei percorsi espansi del percorso che abbiamo passato al primo argomento, verrà residua come abbiamo visto prima al praticato BFS che, come abbiamo visto prima, lo appenderà alla lista percorsi, bisogna avere nuovi percorsi e avviare la ricorsione. Bene, allora, abbiamo già compilato, ho già compilato, quindi lanciamo il gol, Arad, cerchiamo una soluzione da Arad, partito al 3S, scusa. Viene trovata la prima soluzione, quella ottimale, perché ovviamente la ricerca e l'ampiezza cerca il percorso più breve, ma poi in successione per il soddisfacimento vengono trovati tutti e dieci i percorsi soluzione del nostro spazio degli stati della stradale della Romania. Bene, allora, questo modo di implementare la BADFIRST ha un piccolo problema legato all'uso dell'append, perché come abbiamo visto nella unità didattica dedicata all'efficientamento della programmazione in prologue, l'append fa sì la concatenazione delle due liste, ma nel farlo scorre tutta la prima lista, arrivando fino a vuotarla e poi dopo che si è vuotata viene effettuato il concatenamento con la seconda lista. Questo vuol dire che l'append ha una complessità lineare. Noi abbiamo visto in quell'occasione che possiamo utilizzare la tecnica delle difference list, list differenza, per rendere costante la complessità del concatenamento di due liste. In pratica quello che proponiamo adesso è un efficientamento di questo algoritmo che va appunto a eliminare i problemi legati all'append, il quale è inefficiente, come ho appena detto, perché fa la scansione di tutta la prima lista, per rendere i nuovi percorsi di espansione, cioè i percorsi estesi, che ho chiamati estesi, vengono appesi solo dopo che tutta la lista dei percorsi è stata presa in considerazione. Se noi invece la lista dei percorsi la rappresentiamo come una lista differenza, quindi come una lista incompleta, differenza c'è fra una certa lista percorsi e una lista z, quindi questo qui sarebbero i percorsi, path che sarebbe tutta quanta questa meno z, che è una lista indefinita. Se come sto dicendo appunto consideriamo come lista dei percorsi, una lista che ha una coda indefinita meno la coda indefinita, che cosa abbiamo? Abbiamo questa cosa abbastanza sorprendente, è che i nuovi percorsi saranno aggiunti e ciò comporterà il fatto che la nuova lista dei percorsi frontiera sarà path, i percorsi che era prima, più qualche cosa, i nuovi percorsi, che significa che considerandola come lista differenza, la nuova lista dei percorsi frontiera sarà quella di prima meno non z, ma un'altra lista z1 anche se indefinita. Indefinita sì, però in realtà, come si vede dalla figura, questa z1 non è altro che la lista che dovremmo concatenare nuovi percorsi per avere la lista z, che sarebbe la lista indefinita dei percorsi che abbiamo dato all'inizio. Cioè in pratica abbiamo questa cosa abbastanza, ripeto, sorprendente, che possiamo efficientare il programma semplicemente passando al primo argomento una lista differenza. Allora, una lista differenza con una coda indefinita nel caso in cui siamo al tappo della ricorsione, tutto come prima. Nel caso in cui invece siamo durante la ricorsione, passiamo questa lista, differenza, quindi percorsi meno z, tenendo presente appunto che percorsi stessa ha una coda che sarebbe z. Dopodiché andiamo a espandere il primo percorso e quindi troviamo con lo stesso praticato di prima i percorsi estesi e poi, come descritto qui in figura, andiamo semplicemente a fare l'append, concateniamo i percorsi estesi con una lista indefinita z1 per ottenere la z che era la z indefinita di prima. Andiamo anche a fare il controllo, controllo che percorsi sia diverso da z1 per evitare che nel lanciare la successiva ricorsione, in cui lanciamo la ricorsione sulla nuova lista che sarà percorsi meno z1, la nuova lista dei percorsi frontieri sarà percorsi di prima meno z1 invece che meno z, perché abbiamo aggiunto tutti i nuovi percorsi, per evitare cioè di lanciare la ricorsione su una coda vuota, perché se il percorsi fosse uguale a z1, qui avremmo una lista vuota. Bene, questa è la proposta, allora andiamo a modificare il lanciatore, abbiamo opportunamente, sarà questo il nostro nuovo ricorso, lo ritroviamo, e a questo punto possiamo lanciare il nostro nuovo ricorso, lo ricompiliamo, e a questo punto possiamo lanciare il nuovo ricorso, 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 che troverà la stessa soluzione di prima, anzi le stesse soluzioni di prima, quindi risolvendo il problema della cerca in ampiezza in maniera più efficiente. Dicevamo che può sembrare ridondante il fatto che, invece che una lista di nodi, noi ci portiamo dietro sempre una lista di liste di nodi. In realtà, questo è abbastanza sorprendente, il prologue percorso, le liste, queste liste, in realtà, come puntatore a una lista precedente, cioè mi spiego. Per esempio, la prima lista, il primo percorso è costito dal solo nodo radice A, il secondo percorso sarebbe il percorso B A, cioè espandendo A si dovranno i percorsi B A e C A, ma il percorso B A, altro non è che il percorso B, che ha come coda la lista di prima, così come il percorso C A, non è altro che il percorso che ha in testa C e come coda la lista di prima. Per cui, in pratica, a livello macchina, cioè l'interpreted prologue usa i puntatori in maniera molto efficiente, per cui non va a a rioccupare memoria per i nodi relativi ai percorsi parziali precedenti, ma semplicemente nel generare il nuovo percorso, introduce sì il nuovo nodo, questo ovvio, però come coda non genera di nuovo con la memoria dinamica copie dei record precedenti, ma manda semplicemente un puntatore a puntare la lista di prima. E quindi, in pratica, ciò che accade è che di fatto quello che viene a essere generato è semplicemente l'occupazione di memoria che è data solo dai nuovi nodi che vengono aggiunti nella lista dei nodi frontiera e non da nuovi percorsi, cioè non vengono copiati e ricopiati i nodi dei percorsi parziali precedenti. Bene, chiarito anche questo, abbiamo concluso il programma di questa unità didattica e quindi consegniamo questo programma qui e lo mettiamo nel nostro carnet dei programmi e il programma che utilizzeremo per fare la ricerca in ampiezza.